15.000 mi piace se volete vedere un altro video con Alice ed Elisa 220.000 iscritti e finalmente porteremo FC24 qui su YouTube Ciao ragazzi, sono Luca Campolunghi, questo è un nuovo video Neanche l'intro sapete Signori, sono Luca Campolunghi, benvenuti in un nuovissimo video Dopo aver fatto chi mi conosce meglio mamma contro papà oggi faremo chi mi conosce meglio fidanzata contro sorella Chi mi conosce meglio tra voi due secondo voi? Secondo me è lì Allora voglio partire facile, voi dovete scrivere dal vostro cellulare A oggi vince chi si avvicina di più Quanto peso? 3, 2, 1 88 kg 90 kg Mi sono pesato con cruzzo l'altro giorno, ero 89,2 Quindi Quindi no, non vale, cioè Chi si avvicina non vale di un kg, cioè Vale, vale Il regolamento è stato chiaro Chi si avvicina di più, 89,2 È più vicino al nuovo Ma era dimagrito 1,0 per mia sorella Qual è il mio colore preferito? 3, 2, 1 Blu Nero Signori e signore 2,0 per mia sorella Ma l'ultima volta che mi hai detto il colore preferito era blu Ma c'è, ma dai ma anche senso 2,0 per mia sorella Ma l'ultima volta erai blu Te lo giuro sulla mia vita l'ultima volta erai blu Le hai cambiato È l'ultima volta Ma allora ma che senso? 2,0 per mia sorella L'anno scorso sono andato a vedere una gara di MotoGP Dove sono andato? 3, 2, 1 È uguale Vale Valencia, brave Primo punto per Alice 3 a 1 Bravo amore Ti vedo nervosina amore Ma perché il MotoGP La vedo nervosa La vedo nervosa Il mio primo bacio Può essere anche un bacio ingenuo E vabbè A un anno Quando sei nata tua mamma Ma c'è Che bacio ingenuo è? Scusami Il mio primo bacino L'ho dato all'asilo All'elementario Alle medie Perché ne so io? Ti dico anche con No Bacino 3, 2, 1 Girate Elementari Asilo All'asilo 4 a 1 Per mia sorella Dai Non te lo mi dico Ho detto Eh allora Io non esistevo Quando tu eri all'asilo 2 no Avevo 5 anni Un anno e mezzo Pure lei per un anno e mezzo Quindi Perché lei lo sa? Perché ho 3 Eh È appunto questo il gioco Chi mi conosce meglio Andiamo avanti Qual è Il mio numero Di scarpe Abbiamo detto prima Tavola Vediamo se lo scrivi giusto Ma eh sì Te l'ho comprata Cioè Ma scusami Ma che senso ha Hai cambiato il numero Sicuro? 3, 2, 1 44 44 Brave 5 a 2 Chi è il mio pilota preferito di Formula 1? Ce ne sono due Specifichiamo quale? No 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 Quello della vita o quello attuale? Specifichiamo Chi è il mio pilota preferito? Ovvio 3, 2, 1 Girate Hamilton È mio È mio È il suono di me Hamilton Lewis Hamilton Vedi allora che lo sai Ma lui è quello della vita L'attuale Leclerc Ma è sempre Finché c'è Hamilton Sarà sempre Hamilton Da ferrarista Mi piace Leclerc Ma Hamilton è colui Che mi ha fatto innamorare Della Formula 1 Quindi Punto per entrambe 6 a 3 A che età? Eh io non ti conoscevo sicuro Ho avuto il mio primo rapporto sessuale 3, 2, 1 Girate 15 16 Il mio primo rapporto sessuale Non sapevo se li aveva già conosciti L'ho fatto 7 giorni prima di compiere 16 anni Quindi punto per Alice Perché avevo 15 anni E accorcia E accorcia su Elisa Punteggio 6 a 4 Quanto è durata La mia relazione Più lunga? Chi si avvicina di più Prende il punto 3, 2, 1 Girate 1 anno E 11 mesi 2 anni La mia relazione Più lunga È durata 1 anno 8 mesi Quindi si è avvicinata di più Alice 6 a 5 Per Elisa Stai facendo rimontare? Eh sì Mi ricordo che non era durata fino ai 2 anni Ma non mi ricordavo 2 anni Ti stai facendo rimontare Quindi tra poco No non era Tra poco però Calmo Con che voto Sono uscito Dalla Maturità 3 2 1 Girate 63 Che 62 Cazzo sono un caprone Anzi No Ma vergognatevi Ma io non ti conoscevo Non me l'hai mai detto E io mi ricordavo Che una volta Avevi perso Però poi tu ti dico L'avevo perso Niente Il risultato rimane sul 6 a 5 Per mia sorella Prossima domanda Chi è il mio cantante Italiano preferito? Adesso ti scrivo La persona Che tu ascolti Di più E E quella Se non è Cioè Vai 3 2 1 Non so che non è mio Però Tu ascolti di più Anna Vella Tu cos'hai messo? Però Cresare Cremonini Cesare Cremonini 7 a 5 Per mia sorella Che sta dominando Ascolti di più Anna Pepe Anna Pepe mi piace No Lo ascolti di più Anna Pepe L'ascolti di più Anna Pepe Actualmente si Cremonini lo ascolti mai Cesare Cremonini Qual è la mia serie tv Qual è la mia serie tv Preferita 3 2 1 Prison Break Esatto Quindi 8 a 6 Per mia sorella Mia sorella Che si sta avvicinando Alla vittoria Dove L'ho fatto La mia prima volta L'amore si intende 3 2 1 Letto Giusto Giusto Io ho specificato Pure a casa tua Il tuo letto Cioè Ho detto dove Cioè Sul letto Sul tuo letto Sul letto 9 a 7 Per mia sorella Match Poi Alice Muzza Umiliata Potrebbe essere L'ultima domanda Io ho sempre Espresso Un sogno Diciamo Io vorrei Diventare Papà All'età Di Chi si avvicina Di più Prende il punto 3 2 1 Girate Adesso 25 anni Signori Io Ho sempre Espresso Il desiderio Di diventare Papà A 27 Anni Quindi Quindi No No Io vorrei Diventare Papà E chi è? Quindi andiamocene Io 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 vorrei Diventare Papà Entro i 27 Anni Ma tra i 25 27 Siccome La Mi ha fatto La macchina Della verità 3 giorni fa Hai detto Che vuoi diventare Papà Ora Non mi puoi dire Che non è vero Anche diventare Papà Ora C'ho 24 anni Ora che ti metto Incinta Ora che lascio il figlio Ne ho 25 Quindi Signora Adesso è impossibile Bisogna aspettare 9 mesi La vincitrice Di questa sfida È Non Devi essere sportiva Non sono sportiva con te La vincitrice Di questa sfida A mani basse Elisa Campolumi Quindi Mia sorella Mi conosce meglio Della mia fidanzata Brava Eri Bacino Bacino Noi Signori Siamo arrivati Alla fine Di questo video Non ce ne sarà un altro Non lo vedrete più Anzitutto Commentate qui sotto Se secondo voi È stata una vittoria onesta E no Non l'è stata Ho detto a te o a loro Voi ragazzi Sarete Voi A decidere Se ha vinto Realmente Secondo me Sì Iscrivetevi al canale Seguite E mettete mi piace Ci vediamo al prossimo video Saluto Saluto Alla gente Che ci guarda Noi Ci vediamo Al prossimo Video